Attori ed aspiranti attori, buongiorno! Come fare il self-tape non è più un problema. Sappiamo di tenere il telefono orizzontale, sappiamo di non tenere il telefono in mano e sappiamo di non andare a sei metri di distanza a parlare. Ma cosa raccontare all'interno di un self-tape? Con questo video andiamo a scoprirlo. Innanzitutto occorre fare una distinzione, a seconda che ti abbiano dato delle battute da imparare oppure tu debba fare semplicemente una presentazione. Nel primo caso si chiama provino su parte e una presentazione va comunque sempre fatta. Partiamo appunto dalla presentazione che dovrai sempre fare. Per il provino su parte ci vediamo la prossima settimana. Nella presentazione generalmente vogliono sapere cose basilari. Chi sei e cosa fai? Se c'è qualche richiesta particolare il tuo agente te lo segnalerà nella mail di convocazione. Dunque, chi sei? Nome e cognome. Facile. Cosa fai? Evita di dire nasco attore e poi divento performer perché puzza di preconfezionato a distanza di due chilometri. Evita anche di snocciolare un curriculum lungo 6400 chilometri con i lavori fatti anche con il saggio delle scuole elementari. Non serve. Poi dovrai portare le mani al volto in questa maniera e mostrare entrambi i profili girando di pi greco su te stesso. A volte mentre si mostrano i profili è consigliato opportuno buttare uno sguardo in camera e fare un piccolo sorriso. Un sorriso alla fine lo dovrai fare anche frontale. Così. Spesso vogliono sapere chi è il tuo agente e la tua età. Se non vogliono sentire queste informazioni te lo dicono. Normalmente nessuno ti dà indicazione su che distanza posizionare il telefono però generalmente un mezzo primo piano con l'inquadratura che parte da sotto le ascelle è buono perché si può vedere bene la faccia. Non serve per fare un self tape che tu possieda una red da 40.000 euro. Basta un cellulare. Come già detto al prossimo video ti darò qualche indicazione in più per il provino su parte. Ricorda che ogni lunedì alle 15 sul mio canale YouTube esce un video per te che hai gli occhi luccicanti a guardare da lontano il magico mondo degli attori. Puoi vedere le altre puntate qui. Non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale. Ciao sono Lorenzo Trombini. Sono un attore. Vengo da Brescia. Ho studiato recitazione alla scuola di teatro Quelli di Grok a Milano. Lavoro come attore. Lavoro in teatro, al cinema e per la televisione. Lavoro come attore.